Capippa? Asso io capippa. Se poi mi diamo lillo. Normalmen! C'è una rapina in atto qui vicino, alla banca. Una rapina? Sì. E quanti sono? Cinque rapinatori. Cinque? Armati fino ai denti. Sono tutti armati? Tutti armati. Posso fa' niente? Io sono un uomo elastico. Ma io ho questo. Molto utile come superpotere. Doppia? Doppia le... Doppia le... Doppia le... Doppia le... Che doppia le? Ma sul copione c'è scritto che devo mangiare la cacca. E infatti, ha scritto sul copione e l'ha fatto. Non c'hai mai visto lo zombie che mangi la cacca? Gli zombie mangiano carne umana! E questa è una dieta variegata! Un giorno cristiano, un giorno merda! Puntina, occhio. Puntina, occhio. Puntina, occhio.